a volte mi dicono si flui fort, poi tac, pigirina e a forza di farle, che poi mi ha detto citro, soddina, no scusa, e a forza di farle serenase in un actimel, mi so busco fanno un bronchenolo, ma non senti che è freddo, fa 0 in old gradi, non fa bene a gol, oh te finiti fanno un reflector per l'artrosilene, ma proprio lì, proprio lì, è nantium, ma un malos che mi ha commentato in un momento, mi dicono che aspirina, ma dovevi, ti dici, là sono il, che? io sono il, ma fatemi il plasilo, non vedi che genti lì, questi non capiscono niente, non capiscono, io sto al multicentrum, con la scritta attenti al canestern, vedi, pigna, è buona, ma aveva la codex, sto in una via dritta dritta, viagra, ciao, sto in viagra, anche se il mio va ancora su, è ancora ben active, sto con Valeriana, che quando mi fissano, mi fa bene l'ansio lì, infatti gli dico, ma questa amore, che te lo do la fa? non sei Anna Falqui, sei piena di brufen, però quando mi dice, resti foil, è la luce in dei miei occhi, io per lei ho fatto dei foil, guarda, gli ho detto, vuoi un aereo? tuo conto, io ho preso un aereo, e lei mi fa, Nario Sol, e me è meglio Nario Sol che Isomar, stavamo, stavamo nella stessa aulina, sì, anche se lei è in preparazione H, beh, totalmente no, più brava nella Prozac che nella poesia, sì, io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno, fumarmi i fiori di bac, mangiare ananas, ananase sotto un eucaliptol, pure fave di fuga, solo che dopo fai la fuga al bagno, in mezzo alla vegeta allumina, perché come te, un digestivo Antonetto, un locale coi tavor dai fuori, più che altro, guarda come stanno, state tutti fuori coi tavor, ma coi tampax che corrono dovuto chiudere, così, in un modium o in un altro, che fa la vita più Xanax, speriamo che non me pento, dalle ne vali un la pena, ho ptalli da un panno all'estero, allora ragazzi, che vedo lì, entrò in Germina, ciao!